Molto perché in verità ho sempre sognato un momento come quello che sto vivendo I fan hanno superato i miei sogni Io non pensavo di arrivare dove siamo arrivati oggi Con così tanto amore, tanto seguito e tante persone che sono sempre con noi Ci appoggiano, sono affezionate alla serie